Sono 41 i nuovi casi covid registrati nelle ultime ore in Puglia sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute contenute nel consueto bollettino regionale. 41 nuovi casi in virtù di 3.651 tamponi effettuati, 24 in provincia di Bari, 7 in Labatt, 4 in provincia di Foggia, 2 in quelle elece e 3 nella provincia Tarantina dove si registra purtroppo l'unico decesso della giornata. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.800 tamponi, mentre sono 4.000 i pazienti guariti, 860 quelli attualmente positivi. I Dipartimenti di Prevenzione dell'Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie annesiche ed epidemiologiche finalizzate a rinterciare i contatti stretti dei pazienti che hanno riscontrato il covid in questa ultima tornata di tamponi. Il numero crescente dei tamponi dimostra che l'attenzione da parte delle aziende sanitarie locali non diminuisce sull'emergenza coronavirus, un dato che può confortare i cittadini pugliesi e che nonostante la grande ondata di turismo, il territorio pugliese è una delle realtà dove meno il coronavirus è tornato in questa seconda fase dopo la grande emergenza della scorsa primavera.